Un impegno che ci vedrà scendere in campo sin da subito per parlare con la gente, per parlare con le comunità, per prospettare un progetto di questo centrodestra che dovrà vedere ovviamente attorno a noi tanti alleati, una coalizione ampia, ma soprattutto anche rivolgerci a coloro che non la pensano proprio come noi ma che probabilmente sposeranno un progetto della Calabria che tutti vogliamo. Cercheremo come sempre per la nostra storia e per la storia di ognuno di noi di poter onorare gli impegni ma soprattutto di dire ai cittadini calabresi quali sono le priorità e cosa vogliamo fare.